evy non allontanarti ok mamma evy stai bene? ho paura tesoro stai bene? non guarda dove sta guidando questo è un parco giochi è apparso all'improvviso quasi non riuscivo a frenare ciao dimmi dove ti fa male da nessuna parte devo comunque dare un'occhiata il polso è normale ora controllo le pupille stai bene? come si sente? dottoressa mi fa male la testa questo taglio non sembra grave probabilmente ha sbattuto la testa sul volante ma va disinfettato tutto a posto torni domani per cambiare la medicazione grazie dottoressa grazie dottoressa grazie dottoressa mamma voglio un gelato prendiamone uno gelati! chi vuole un gelato? salve! che gusti avete? mirtilli e gomma da masticare voglio mirtilli! subito e ci aggiungo un'arancia io prendo gomma da masticare grazie ecco a lei grazie 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 grazie